Chi si sposta quotidianamente a piedi lo sa benissimo, nelle città italiane e in quelle della Toscana in particolare esistono scorci meravigliosi e bellezze nascoste, accessibili solo a chi ha la pazienza di girarle lentamente camminando. Ecco perché la Regione Toscana ha deciso di siglare un protocollo con la WISP Federtrack per promuovere due progetti paralleli e complementari, città che camminano e città del trekking. Due elogi della lentezza. Perché non riproporre anche in città il piacere del camminare, perché è il camminare che fa salute, che consente di vivere l'ambiente in modo diverso, che può anche produrre occasioni di incontro magari. Forse si parla meglio passeggiando che non viaggiando velocemente o comunque stando rinchiusi nell'involucro di un'auto. WISP Toscana e Federtrack metteranno a disposizione delle amministrazioni locali le loro competenze per disegnare i percorsi pedonali e ciclabili più adatti, attraverso cui restituire l'immagine migliore delle città interessate. I percorsi di trekking saranno quelli dedicati in particolare a promuovere l'unica mobilità autenticamente sostenibile, il camminare. Mentre per quanto riguarda il progetto delle città che camminano, sponsorizzato da WISP, è già stato sperimentato a Pisa con ottimi risultati nella promozione di uno stile di vita attivo e salutare.